Tradizione e progresso, piccoli imprenditori e grandi aziende, radici profonde che hanno reso Torino leader industriale nella manifattura avanzata e in particolare nell'aerospazio ed automotive. A questi settori sono dedicati a Torino numerosi centri di competenza e progetti rilevanti dove trovano casa grandi aziende, PMI, mondo universitario e della ricerca. In questo scenario di sviluppo, commercio, artigianato, turismo, cultura e terzo settore esprimono un bisogno crescente di spazi e progettualità per sperimentare e mettere in pratica soluzioni innovative. Camera di commercio di Torino sostiene questa visione e con la riqualificazione dei suoi palazzi storici in piazzale Valdofusi darà vita a un nuovo quartiere dell'innovazione, integrato con la città e con gli altri attori strategici che operano su quest'area. Questo è Innovation Block. Con questo ambizioso progetto, la Camera di commercio rinnova il suo forte impegno nel promuovere programmi di innovazione, attenti a rigenerazione urbana e impatto sociale. I progetti pilota che troveranno casa presso l'Innovation Block seguono questa agenda strategica. Inclusione e impatto sociale, competenze e digitalizzazione del terziario avanzato, modelli di turismo sempre più connesso ed esperienziale, sostenibilità per una transizione digitale e green delle PMI. L'Innovation Block cresce intorno ai quattro edifici storici della Camera di commercio di Torino. Palazzo Affari, opera di Carlo Mollino, diventerà la Domus, il primo tassello di un sistema di ambienti a disposizione di imprese e cittadini. Un significativo intervento strutturale renderà gli spazi coerenti con servizi sempre più digitali. L'ex Borsa Merci sarà l'Accademia, dedicata alla formazione e alle iniziative di networking per start-up e soprattutto uno spazio pubblico per co-working a disposizione di imprenditori e liberi professionisti. Torino Incontra è destinata ad essere il Forum, un luogo ibrido, fisico e digitale dedicato a eventi, convention, meeting, incontri di affari e B2B. L'ex Borsa Valori, opera di Gabetti e Isola, è il simbolo della trasformazione di Piazzale Valdo Fusi in Innovation Block. Sede fino al 92 delle contrattazioni di Borsa, ambita da eventi nazionali e internazionali, riprenderà vita e diventerà l'Anfiteatro. Un grande salone di quasi 1500 metri quadri in centro città dove portare mostre, convegni ed eventi. Sarà infatti la Casa di Idee e Imprese Innovative, la sede della Borsa Sociale e di Torino Social Impact, il punto informativo dove scoprire e prenotare le offerte turistiche, lo spazio interattivo per la promozione del territorio e per l'incontro con i produttori eccellenti del gusto. Ma soprattutto qui sorgerà il Lab Esperienziale, che con la Smart Area permetterà a imprenditori e cittadini di toccare con mano le più moderne opportunità offerte dalle tecnologie digitali emergenti e di frontiera. L'investimento totale è davvero consistente, oltre 25 milioni di euro. Una risorsa per imprese, istituzioni e cittadini anche grazie alla forte collaborazione con la città di Torino, la regione Piemonte, la fondazione Piemonte Innova e l'intero ecosistema che sostiene lo sviluppo del nostro territorio. Tecnologie, esperienze digitali e immersive, congressi ed eventi, nuova imprenditoria, formazione. Un isolato di edifici e progetti dedicati all'innovazione diffusa e alle imprese del futuro. Innovation Block, dove il futuro trova spazio. Innovation Block, dove il futuro trova spazio. Innovation Block, dove il futuro trova.